ciao vuoi un cane? noi ne abbiamo sei cuccioli e queste sono le mamme incroci di incroci mezzi spinoni mezzi non si sa bene comunque mezza taglia pelo da uno al pelo corto l'altro al pelo medio i cucciolini probabilmente cresceranno tre col pelo lungo e tre col pelo corto ci sono tre cuccioli neri di cui uno ha le zampine e la punta della coda bianca ce n'è uno marroncino chiaro color miele e uno bianco e uno bianco con le macchie nere sono quattro femmine e due maschi sono nati tra il 9 maggio e il 18 maggio oggi è il primo giugno quindi hanno tre settimane di tempo e quindi abbiamo un altro mese e mezzo di tempo prima di regalarli se vuoi uno di questi bellissimi cuccioli allora ti basterà scrivere in privato su facebook a cico giramundo o a elisa calori ciao adesso ve li faccio vedere per un'ultima volta così vi innamorate definitivamente mi scrivete in 100 mila insomma troppo carini se volete un cagnolino questo è il momento giusto le mamme si chiamano marley e reggae quindi la cucciolata promette bene fatevi sentire in privato su facebook a cico giramundo o a elisa calori ciao